un po troppo sul portiere su di lui e io me l'era troppo sotto l'isciata era troppo sul difensore vai vai ci siamo 3 contro 3 ci sta marino che mi ha preso 2 tiri e c'è nobile andrini faccio un calcio ti facevo malissimo se stavi davanti fortuna ci sono fa niente fa niente dai caro ci sono io se vuoi recuperare sono io io prendo il tozzo se devo andare sicuro? io non mi muro bravissimo carlo ho fatto un bel anticipo no no carlo salubbile vici 3 contro 2 2 agli 1 ottenuti dai uno da qualche parte ci lascia la poco ci va no no sta parando tutto tutto sta parando tutto sta parando tutto sta parando dai dai guarda guarda 2 contro 1 che culo aiuto è loro cosa contro 2 sto sempre contro 2 la seconda volta mi sono fatto male sul palo mi sono fatto male sul palo cosa hai sbagliato là? calma calma finalmente il problema è che tu sei una merda carlo ho fatto due gol ora a difesa cosa ho fatto ma a difesa? due volte cioè due gol ho preso secondo sono il quarto io io sono il quarto vuoi andare avanti luca? 8 a 6 hai battuto? ok ah vai bravissimo scusa carmi te l'ho visto bene bravo pure dietro se vuoi pure dietro bravo peccato era un tiro vero forte stai dietro andavi proprio su sky andavi andavi proprio su sky andavi andavi proprio su sky andavi stai carlo sei la bravo no l'ho capita va bene va bene fortu bravissimo va benissimo cerca sempre di portarlo sull'esterno che è meglio che all'interno qui fortu e io sono cerchiamo ce n'è uno libero là eh carlo bravo bravo cazzo aiuto veramente siamo c'è chi stava là? no io ho presa però c'è c'era l'altro bravissimo bella parata io non ho presa per tanto di testa ho due o tre ho due o tre ok ok bravissimo 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 sei su di lui eh vai ci sono io ci sono io ci sono io nooo nooo ah io faccio nooo scusate 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 ma lui ma lui ce l'ho lì ce l'ho io che culo però eh che culo però eh cioè sei sei scusa dobbiamo segnare ma stiamo mangiando mille cose se volete vado io con te qui c'è cinque ragazzi sto bravo vai 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 bravissimo 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 porto tornate tornate raga tornate bravo carlo bravissimo io ho preso due pali hai fatto bene a tirare hai preso il pallo interno c'è quello dietro faccio avanti porto il tiro bravo aiuto vabbè ma non lo lasci per il tiro io sono uscito però vabbè che buona no no ecco vostro non credo sia vostro io ho detto io credo sia nostro aiuto però state veramente dormendo ce l'ho detto che era nostra se stava prendendo che devo fare io l'ho visto da dietro per me la nostra non fa niente è che la difesa è ferma però quinto quinto il quinto ora deve andare no carlo vai dietro però non c'è nessuno bravo sai perché me l'ho fermato perché se la perdo torno capito cioè perché no hai fatto benissimo però io ero già pronto a ritornare non sono l'attaccante ma io siamo in due contro tre eh metti sulla linea da palla bravo vai forte bravo io pure lo sapevo no non siamo mai quelli brati Carlo bravissima vai solo se si gira vera buona devi sapere posso battere ragazzi no dai cazzo non batto mai ho mai battuto ho fatto una battuta io non ho mai battuto la posizione mica niente ah guai fiero 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 fico fico no uno fiero fiero fai di tornare Carlo mannaggia sto stronzo mannaggia va io però tornate cosa ci siete cosa Siamo Ma io state fermi No ma state fermi Ma io però Cioè no ma cambiamo squadra Loro corrono Vai No è perché sbagliato lo stup No sai cosa c'è che lo stup Hai sbagliato tu Sì ma lui ha sbagliato lo stup Perché ti è venuto addosso Ti stupava meglio Ti tirava più spazio per la porta Poi io ero da solo Se stupavi bene Ovviamente Poi mi sei perso perché sono t'aiutato Bravissimo 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 Porca troia la toccata Bravo cazzo No non c'eri Stavo staccando le mani No infatti io sono entrato piano Se ne facevo conti Sbagliato Bravissimo bravo No no ti schifo Ci sono ci sono ci sono Sbagliato è sbagliato Vai 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 Io sto sempre là io Sto sempre là io Bravo Sii sbagliato sempre libero stava io forte ma io siamo siamo squilibrati non è perché abbiamo due che non corrono capito allora se ne avevamo ma che sfiga bravo carlo bravissimo ora va bene se era per me sbagliato non fa niente fa niente bravo lui peccato va bene se era per me sbagliato non fa niente fatto un bel movimento carlo c'è uno la vai 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 bravo bravo lui vai lui c'è uno porto porto no andiamo perché era venuto calma va bene non fa niente capire scavamo se stiamo messi male noi aiuto siamo aiuto sono marcate però no è l'attaccante ma ce l'ho io questo l'attaccante è loro vedi come giocano loro c'è uno 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 provaci che pari hai visto come è stato? vabbè io vado in anticipo ci sono lui calma è andata troppo indietro cazzo no è andata troppo indietro aiuto sono il quarto io che? vado mi è andata troppo indietro ho fatto colore io lo svegliano troppo avanti poi vedi bravissimo la mia l'acqua l'acqua è la mia Ah, io libero bravo tornate, 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 tornate è la tua mannata va bene, va bene, no, lui, lui, mentre si è fermato no, una comitata, con il graf guarda la palla, Carlo me l'hai fatto bene l'hai fatto la, io, là vai, 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 vai va bene, va bene passa forte guarda come passa subito però io faccio sempre questo io faccio sempre questo però forte lo sai c'è di come arrivano subito i passaggi cos'è ma veramente guarda se si faceva ripacendo autocolla cosa no no lo so lo so io io dovevo tirarlo sbagliato a passare che era pericoloso c'erano due carlo eh c'erano due per dietro cosa no primo no il quinto quinto cinque voi sopra o quattro bravissimo ce l'ho fatto carlo torna carlos perché l'abbiamo perso uno carlo l'abbiamo perso no lo so non usci così è pericoloso c'erano due io ce l'ho due ok bravissimo bravo hai fatto bene era brutta fattelo dire l'attaccante fattelo dire l'attaccante grazie no va bene carlo va bene per un centimetro per un centimetro va bene no ma hai fatto benissimo non fa niente però te lo dice pure lui che è ottimo questo passaggio fatto benissimo fa niente ma l'importante è passare poi si sbagliamo c'è di come stavo qua non fa niente ma l'abbiamo 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 non fa niente ma l'abbiamo